Credo che stia parlando proprio in questi minuti il ministro Piantedosi, andiamo a seguire in un evento alluminale in cui verrà sottoscritto nei creazioni di intenti per la lotta contro l'antisemitismo nel calcio, sentiamo Piantedosi. Il comportamento proattivo delle società, allora quando adottano queste misure, nel caso si verifichano episodi, quindi ovviamente si tiene conto per l'applicazione delle sanzioni successive, insomma del comportamento avuto della società. È un grande contributo che dà il mondo del calcio, per cui prego Dottor Brunelli se vuole dire qualcosa. Grazie, grazie. Anch'io ringrazio voi, il ministro, il prefetto, per averci coinvolto sin dall'inizio. Allora dicevamo questo evento, poi ovviamente vi porteremo a saperne un po' di più su questa dichiarazione di intenti perché di limitare l'antisemitismo nel calcio e soprattutto ovviamente nelle curve. Parlando in qualche modo di antisemitismo, insomma torniamo a parlare di...